Salve a tutti ragazzi bentornati sul mio canale e oggi andremo a fare una partita sulla beta di Black Ops 3 E ovviamente non faremo demolition, non faremo domination ma faremo hardpoint Praticamente sarebbe la modalità che c'è nel Black Ops 2 è posizione, mi ricordo come si chiamava il nome giusto Che presente tu devi stare su una determinata area e guadagnare punti E noi prenderemo questa al nostro vantaggio per fare un po' di kill Ma dovremmo anche prendere questa area Siamo entrati in una partita già iniziata quindi penso ne faremo un'altra Come vedete il putteggio in basso a destra, a sinistra, scusate Sta aumentando, noi più siamo qua e più aumenta Noi ovviamente dobbiamo difendere da eventuali intrusi Perché se noi non difendiamo ci rompono il culo e perdiamo l'area Come vedete l'area ogni tot cambia quindi dobbiamo pure noi spostarci e stare attenti alle insidie Come sti pezzi di merda che lanciano bombardatori Però non ce la fanno Lo sto pezzo di merda che... Tipo tu che fai? Che fai? Ti miro... Vabbè fa culo Quella che stava sparando agli uccelli Sparava agli uccelli e l'ho ucciso con due colpi nella bocca Che devono morire pezzi di merda Non vi vedo Sono cieco Mi vado da dietro? Va bene Va bene così Va bene così Detto quello... Dove vai? No io la volevo fregare Hard point kill Ragazzi headshot Un'altra headshot Ci prepariamo a prendere questo UAV Così ci da Un po' di information Vabbè Information di merda Perché Non l'ho visto Non mi fate alzare L'anerchia Perché se mi alza l'anerchia Puoi Salta tutto Ci ritroiamo tre dietro Ehi Dai che t'ho visto Dai che t'ho visto Dove stai andando? Stai facendo il giro Brava Come fare il giro Perché se no Vabbè Che cazzo è Un fantasma Mi ha ammazzato Un fantasma Con la Con il calacini Con il russo No T'ho visto Pezzo di merda Cosa volevi fare? Cambia d'aria Intanto Quindi noi ci apprestiamo Ad andare Alla nuova area Vabbè La mira È andata A farsi fottere Sì vabbè Ma perché? Dico il perché di questa cosa Io non l'ho capita Fidiamo così la partita Con Una vittoria Però Era una partita Già iniziata Speriamo ci sia Un altro round Non so se c'è Un altro round Non so se c'è Un altro round In tal caso Se non c'è un altro round Ne andiamo a fare Un'altra partita E quindi Sì Ci vediamo Ad un'altra partita Combine La mappa Una modalità Hard point E come vi ho spiegato prima Dobbiamo difendere La nostra area E siamo Pronti a rompere Il culo a tutti No con questa arma Sì con questa Questa arma È molto Buona Quindi se Se vi Dovete comprare Con i token Una buona arma Un buon fucile Prendete il razorback Che il razorback È una bomba Difendiamo Questo cioccolo Esci Eh vabbè Vabbè La mira Proprio la mira Non c'è La mira non c'è Ne vedo uno Ne vedo uno Più di uno Ho messo pure Il silenziatore Come potete vedere Su sto raggio Perché così Possiamo avere Una maggiore Esci 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 portinaio Va bene Va bene Andiamo così Ci sono le assassin Creed Gabbiani Gabbiani Che mi saltano Adosso e mi uccido Sì come a questo Come fa Un salzato del gabbiano Mi caga in testa E mi uccide Praticamente Possiamo anche Andare a fanculola Dopo che Ho fatto questa merdata Mi potete chiamare Down Da questa volta in poi Perché fare queste azioni E poi Non andare in porta A queste provate Vuol dire Prova di essere down E non muo- No vabbè Se non muoiono Ma ne ha la miseria Una scossa In meno Ma volete morire Vabbè Vabbè che l'area L'hard point Da prendere È quella L'area da difendere Quindi Basta che uno guarda Sì vabbè Questo entra Subito mi vogliono ammazzare Ok Io guardo da là Tu guarda da là Amico Amico caro Non puoi morire così Amico Sì vabbè Vabbè Ma che è sta cosa Dobbiamo Essere incisivi Su questa partita Dobbiamo vedere Chi comanda Comanda un cazzo Che cazzo è L'armatura in diamante Ma manca Minecraft Che era Code è diventato Minecraft ora Ma non ho mai visto L'armatura No vabbè Quello Che era Ultima speranza E non muore Era morto No vabbè Non si può giocare così Che partita di merda Ragazzi È una partita Di merda Vedo uno là E me l'hanno ucciso C'è uno Ne vedo uno Sulla destra Ce ne sono un paio Proviamo Prendere l'aria Sì vabbè Non muoiono No Non muoiono Quando non muoiono È un problema Ma molto grosso Sto problema No vabbè Avete visto pure voi Sono spavolato proprio qua Davanti l'aria La vecchia aria Non muoiono Ora deve morire Ora deve un po' morire Perché c'è un po' la mamma pelata E se c'è la mamma pelata Io sono un pezzo di merda Che muoio come il coglione Tanto è cambiata L'aria Sì vabbè Vabbè Quello gli da due capocciate in bocca E come niente Le ammazzo Io con due colpi Non le ammazzo Ovviamente Sì vabbè Io proprio sono gecato E non li vedo Dove siete? Questo? Va bene La pistolina non funziona La pistola Esci Sparro 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 Non vabbè Dai Mi stavo divertendo Con l'archetto Mamma mia Al volo L'assist Ma ci sta Ragazzi Inizia Il problema Il procazzi Inizia Procazzi Dove proprio dirlo Perché questa partita Sta andando Così cosa Va bene Va bene Non muoiono Non muoiono Dobbiamo proprio Essere decisi Dobbiamo prendere Ogni nostro Pogliettilo Su questo Cioccolo Che piglia L'assist Dove siete E muori E muori Ce l'abbiamo Di dietro Non è vero E va bene Chi deve prendere Il predator Di merda Io A me De prendere Deciso io Facciamo io Una granata Tozza e pie Di Instagram Va bene Va bene così Va bene Va bene così Quello mi ammazza Da cercato Ci commette Perché non ci vedeva Un cazzo Io ho lanciato Due flashbang Il nostro Che dobbiamo fare Forza No vabbè No vabbè Non va bene Per niente No io me ne vado Io me ne vado Io Esci No vabbè No vabbè Da dietro pure Ma siamo Ma io non lo so Ma veramente pure da dietro Ora mi spawnano Non va proprio bene ragazzi No No vabbè La mira proprio non c'è ragazzi Bisogna proprio Essere incisivi Sapere usare Per bene Questa mia Dobbiamo Tosarla Dobbiamo Ma che sono Ste bombe Mi dovete spiegare Ora Mi dovete spiegare No Mi dovete spiegare Cosa ci fanno Quelle Ste merdine Qua Raps Che sono ste raps Che è un Un ictus Scusa ma Hai laps E' brava Hai l'ax L'ax Di tua mamma Va bene Non muoio Guarda che scusate Siamo in 4 poi In 3 Quanto siamo 4 Distruggiamo L'herpes qua Distruggiamo l'herpes Una raps Di kill Dove cazzo c'era That's a kill Bitch Dobbiamo proprio Prenderli Dobbiamo Prenderli Per la gola Prenderli Per la gola Staccagli La trachea E fargli parlare Stile A uno che non ha trachea Tipo E perdono Questa partita Non è stata molto Profigua Possiamo vedere Comunque Eravamo 4 contro 5 Quello è gioinatore Infatti come vedete Allo score 0-0-0 Io ho fatto 6-30 Come potete vedere Sono l'unico L'unico Il world record Che ha fatto 6-30 Quello ha fatto 32 Quindi ancora Me da più cacca Di me Un livello 1 Ma fai a 13-7 Io che sono a livello 7 Ma faccio 6-30 Morti Cioè Rendete conto E perché oggi è tutto Ragazzi Vi invito a lasciare un like Alla pagina facebook Iscrivetevi su youtube E lasciamo un like E un commento Per la pagina 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 Per la pagina